Ci sono sette segnali che indicano che stai facendo meglio di quanto pensi. Potresti voler salvare questo video per dopo o condividerlo con qualcuno che ne ha bisogno. 1. Sei cambiato molto rispetto a un anno fa. Il cambiamento è un segno di crescita. Non temere il cambiamento, temi di rimanere sempre uguale. 2. Hai attraversato momenti difficili. 3. Affrontare le difficoltà è positivo. Significa che stai diventando più forte, anche se può essere difficile. 3. Prendi sul serio i tuoi obiettivi. La maggior parte delle persone non conosce nemmeno i propri obiettivi o segue semplicemente le masse. Avere degli obiettivi ed essere seri riguardo ad essi significa che stai facendo molto meglio di quanto pensi. 4. Hai uno o due amici fidati. Avere amici su cui contare è un segno che sei fortunato, anche se si tratta di una sola persona. 5. Cerchi la pace piuttosto che il piacere. Molte persone cercano solo la prossima gratificazione istantanea. Se cerchi la pace, invece, significa che sei molto avanti. 6. Impari dagli errori. La maggior parte delle persone fugge dai propri problemi o in colpa agli altri, ma tu riconosci i tuoi errori e impari da essi. 7. Hai fiducia che tutto andrà bene. Hai fiducia che l'universo abbia grandi cose in servo per te e agisci per realizzarle. Lascia un cento nei commenti se sei d'accordo con questo. E mi raccomando non seguirmi se non vuoi essere felice nella vita. 8. Il nostro corso di un'universo abbia grandi cose in servo per te e agisci per realizzarle.